Cari amici, ben trovati ad una nuova tappa del viaggio nella Bibbia. E prima di addentrarci nell'argomento di oggi, vorrei invitarti a pregare insieme a me. Padre nostro, siamo affamati, assetati di te e della tua parola. Pervadici con il tuo Spirito Santo in questo momento e saziaci. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Siamo arrivati alla terza tappa del nostro viaggio nella Bibbia, la scoperta della Torah, i primi cinque libri della Bibbia. E oggi vedremo quello che è il centro della Torah, ovvero il santuario. Il santuario è un tema che abbiamo già affrontato nelle precedenti tappe. Lo abbiamo sfiorato perché il santuario di per sé rappresenta nella Bibbia una vera e propria mappa del piano della salvezza. Quest'oggi ci addentreremo più in profondità sull'argomento. In effetti, se noi guardiamo con attenzione come è strutturata la Torah, cioè i primi cinque libri della Bibbia, ci rendiamo conto che la struttura ci suggerisce un centro preciso. L'abbiamo già visto nelle precedenti puntate. La parte centrale del Pentateuco si svolge sul Sinai. Sul Sinai Dio dà le istruzioni che poi appunto saranno redatte e andranno a formare la Torah, ma in modo particolare gran parte dei capitoli centrali della Torah si soffermano sul santuario. A partire dal capitolo 25 di Esodo, dal versetto 8, dove Dio ordina di realizzare un santuario, poi i capitoli successivi e anche poi il libro di Levitico, in parte di numeri, si soffermeranno su quelle che sono le disposizioni, con le misure, con i materiali. Dio che quindi scende proprio nel dettaglio, con le istruzioni per realizzare il santuario. In modo particolare l'ultima parte del libro di Esodo, quella parte noiosa che di solito a volte noi cristiani saltiamo perché si sofferma proprio nel dettaglio, ecco, fino a parlare dei forchettoni, le pentole da utilizzare per le varie cerimonie che si svolgevano nel santuario. Poi c'è tutto il libro di Levitico che fondamentalmente è strutturato con le norme per i sacrifici, gli olocausti, di tutte le tipologie e le varie poi cerimonie che avevano come cuore, come centro, proprio il santuario, fin ad arrivare al libro di numeri. Domanda, perché così tanti capitoli della Torah sono dedicati al santuario? Magari noi ci saremmo aspettati di trovare magari una storia un po' più avvincente, dei capitoli più attraenti che non quei capitoli a volte che ci risultano veramente pesanti e noiosi con queste descrizioni così particolareggiate. Perché se la Bibbia insiste su un tema, se la rivelazione di Dio si sofferma così a lungo sul santuario, dobbiamo alzare le antenne del cuore perché evidentemente lì c'è un messaggio importante che aspetta di essere scoperto. E allora vogliamo capire quella che è la teologia del santuario. Innanzitutto dobbiamo riscontrare che il santuario è un tema centrale non soltanto nella Torah, ma in tutta la Bibbia. Ad esempio, quindi non ne parlano soltanto la seconda parte del libro di Esodo, tutto le viti con la prima parte di numeri, ma il libro di Ezechiele, gli ultimi nove capitoli, sono tutti incentrati sul santuario, in modo particolare sulla descrizione del santuario futuro, quindi celeste che sarebbe stato poi realizzato dalla Signore. L'Epistola agli ebrei è il grande libro del Nuovo Testamento che è totalmente incentrato sul santuario e utilizza il santuario come una sorta di chiave di lettura per comprendere il senso dell'incarnazione, vita, morte e resurrezione di Cristo Gesù. Quindi questi libri hanno proprio come tema centrale il santuario. Altri libri, come ad esempio i Salmi, i Profeti, l'Apocalisse stesso, citano tantissime volte il santuario, o addirittura libri come l'Apocalisse, sono interamente strutturati, proprio con sette cicli di sette che ricordano quindi la menorà inserendosi in quello che è il significato simbolico del santuario, facendo vari collegamenti anche con le varie feste e cerimonie che si svolgevano al suo interno. Probabilmente sono stati i salmisti, coloro che hanno compreso meglio di tutti, anche di noi cristiani, il valore profondo del santuario, perché troviamo nei salmi delle poesie che esaltano il santuario e colgono quello che è il senso profondo di questo messaggio. Salmo 27,4 Una cosa ho chiesto all'Eterno, è quella cerco di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo santuario. Vedete qui che c'è proprio uno struggimento, un desiderio profondo del salmista di abitare dove? Nel santuario di Dio. Una cosa cerco, ho solo un desiderio profondo dell'anima, abitare con Dio. Oppure ancora, il Salmo 84, i primi quattro versetti, Oh, quanto amabili sono le tue dimorio Eterno, l'anima mia anela e si strugge per i tuoi cortili. Anche il passero trova una casa e la rondine e un nido dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari. Beati coloro che abitano nella tua casa. E ancora c'è struggimento, desiderio, passione di abitare nella casa di Dio. E il salmista addirittura riesce a cogliere dei piccoli dettagli del santuario. Si rende conto che anche gli uccellini riescono a trovare un rifugio, una dimora, quindi nel complesso edificio che era il santuario all'epoca. Salmo 23, il salmo più famoso, più noto, che termina con queste parole. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno, cioè nel suo santuario, per lunghi giorni, per sempre, per l'eternità. Salmo 73, allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è apparsa molto difficile, finché sono entrato nel santuario di Dio. Per cui il santuario diventa un luogo di riflessione, un luogo di comprensione, un luogo dove si trovano delle risposte. Il salmista del Salmo 73 trovava i suoi dilemmi insoluti, i suoi dilemmi troppo difficili da soluzionare, fino a quando è entrato nel santuario. In effetti, nel santuario si possono trovare tante risposte a quelle che sono a volte le principali e forse anche più delicate, scottanti domande che tanti di coloro che si avvicinano alla Bibbia si pongono. C'è un altro elemento da sottolineare riguardo il santuario. Da sempre il santuario conduce i credenti, è qualcosa che proprio accompagna la storia del popolo di Dio. Innanzitutto con il santuario mobile, che all'inizio appunto il tabernacolo era una tenta smontabile, che ha seguito per 40 anni il popolo di Israele nel deserto, e per diversi secoli poi è rimasta una tenda mobile, fino a Salomone, che realizza il sogno di suo padre Davide quando costruisce il primo tempio in muratura, quindi in pietra, a Gerusalemme, che poi sarà distrutto nel 586 a.C. dai babilonesi, sarà poi successivamente riedificato e ampliato da Erode il Grande al tempo di Gesù, e poi anche il secondo tempio sarà distrutto nel 70 d.C. dai Romani. La Bibbia però ci parla di un quarto tempio, questa volta celeste, che si trova nel cielo e dove Gesù è asceso dopo la sua resurrezione. Quindi il santuario è un tema che accompagna da sempre il popolo di Dio fino alla fine dei tempi, secondo la Bibbia. Un'altra cosa importante da capire è il messaggio insito nella disposizione del santuario. Di fatto rappresentava un vero e proprio centro del mondo, un po' come nel giardino dell'Eden c'era l'albero della vita, insieme all'albero della conoscenza del bene e del male, che erano al centro del giardino, al centro del paradiso, e costituivano appunto un centro intorno al quale tutto ruota, cioè qualcosa di essenziale, qualcosa di fondamentale, lo stesso era il santuario. Infatti in numeri capitolo 2 troviamo la disposizione dell'accampamento del popolo di Israele, quando vivevano nelle tende, era un accampamento preciso, ordinatissimo, dove al centro c'era il santuario, intorno al santuario c'erano le varie famiglie dei Leviti, che avevano mansioni diverse all'interno del santuario, e poi per i quattro lati, ogni lato tre tribù, quindi tutti e 12 le tribù di Israele, in modo ordinato, erano intorno a quel centro. Per cui il santuario rappresenta il centro intorno al quale tutto ruota, cioè quel centro intorno al quale tutto si gioca, si gioca la nostra esistenza, il senso della vita, la nostra salvezza. Non solo, ma anche la forma del santuario contiene un messaggio importante. Il luogo santissimo, secondo la Bibbia, era un cubo perfetto. A noi moderni non ci dice quasi nulla questa immagine, ma per gli antichi il cubo era il simbolo della perfezione. In qualche modo il santuario si presentava come un luogo perfetto in mezzo a un mondo imperfetto, un luogo santo in mezzo a un mondo profano. E in questo c'era insito il suo messaggio, fondamentalmente. Il santuario conteneva la via della santità, conteneva la via della perfezione, cioè la via del ritorno a ciò che avevamo perso, la nostra vera vita, quello che era il mondo Tob, buono, molto buono, che a causa del peccato abbiamo perso. Quindi il santuario contiene un evangelo, una buona notizia. è possibile ritrovare la perfezione, è possibile ritornare alla santità, a quel mondo buono, molto buono, e il santuario ci illustra come. Compreso questo, possiamo capire anche dei testi che a volte, letti da noi moderni, non solo non riusciamo a coglierne il significato, ma addirittura potrebbero anche scandalizzarci, come ad esempio Levitico 21, i versetti da 17 a 21, dove è scritto che nessun uomo che abbia qualche deformità potrà costarsi offrire il pane al suo Dio, né cieco, né zoppo, né chi sia sfigurato in viso, abbia un arto deforme, o una frattura al piede, o alla mano, né un gobbo, né un nano, né colui che ha una macchia all'occhio, o ha un eczema, o la scabbia, o i testicoli schiacciati, ha un difetto. In quest'ultima frase, credo che sia la parola chiave per capire il senso di questa disposizione. Per noi moderni, sembrerebbe quasi una sorta di discriminazione, per cui Dio impedisce a coloro che sono diversamente abili di poter entrare nel santuario e di poter ufficiare come sacerdoti, come membri della famiglia di Levi, ma in realtà questa non è una discriminazione. Il santuario ha uno scopo preciso, uno scopo pedagogico, secondo quello che è l'intenzione di Dio, per cui tutto all'interno del santuario deve essere conforme al simbolo. E qual è il simbolo che il santuario ci indica? Il santuario è un luogo di perfezione, quindi non soltanto gli arredi, non soltanto la forma del luogo santissimo, devo richiamare la perfezione, ma anche coloro che ufficiavano al suo interno dovevano essere conformi al simbolo, per cui dovevano essere di sana e robusta costituzione, oggi ci verrebbe da dire. Tutto ciò nel Nuovo Testamento, in modo particolare, viene ripreso nell'Epistola agli ebrei e ne viene illustrato il senso più profondo. Di fatto il santuario era una mappa del piano della salvezza che ha come centro Cristo Gesù. E il santuario illustra tutta l'opera che Cristo Gesù avrebbe compiuto a favore dell'umanità per poterci aprire la via della salvezza, quindi del ritorno a casa, del ritorno alla perfezione. Il santuario è composto da tre parti, il cortile, il luogo santo e il luogo santissimo. Il cortile ha una porta d'ingresso che era veramente amplissima, come per dire che le porte della salvezza sono spalancate per tutti. Subito dopo c'era l'altare dei sacrifici, che era quell'altare dove si sacrificavano gli agnelli ponendo la mano sopra l'animale, confessando i propri peccati che simbolicamente si trasferivano dal colpevole all'innocente che poi sarebbe stato sacrificato. E accanto c'era una conca di rame con dell'acqua per potersi poi purificare, quindi dal sangue. Poi c'era il luogo santo, dove c'erano dodici pani continui sulla tavola dei pani che rappresentavano tutte le tribù del popolo di Israele. C'era la menorah, il candelabbo a sette bracci, dove c'era un fuoco, quindi una luce perenne che era alimentata dall'olio, un olio particolare di cui vengono date proprio gli ingredienti, diciamo, le istruzioni su come doveva essere fatto, come pure vengono date le istruzioni per l'altare dei profumi, dove appunto c'era questo profumo che riempiva tutto il santuario. E poi c'era la cortina, questo velo, questa sorta di tenda che divideva il luogo santo dal luogo santissimo, dove c'era l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, che semplicemente era una cassa di legno ricoperta d'oro con sopra scolpiti in modo quindi stilizzato, in modo artistico due cherubini che con le loro ali coprivano l'arca e che erano sopra il propiziatorio, che era il coperchio, quindi di questa cassa di legno ricoperta d'oro. All'interno si trovava un vasetto che conteneva il ricordo della manna, quindi resti di questo pane che Dio aveva fatto piovere dal cielo durante i quarant'anni nel deserto. La verga fiorita di Aronne, la storia si trova in numeri 17, per stabilire quale tribù avrebbe servito all'interno del santuario, ogni capo tribù portò il suo bastone, solo quello di Aronne fiorì, e per cui rimane come testimonianza della famiglia di Levi, che si sarebbe occupato quindi di servire come sacerdoti, come leviti. Ma soprattutto l'arca del patto conteneva i dieci comandamenti, le due tavole scritte con il dito di Dio. Tutte le cerimonie, tutte le feste del popolo di Israele si svolgevano presso il santuario, tutte le decime, tutte le feste presentate a Dio dovevano essere portate al santuario. Ma leggendo l'Epistola ai Ebrei, leggendo il Nuovo Testamento, scopriamo che in realtà il santuario era soltanto l'ombra dei beni futuri, quindi era soltanto un paradigma, un simbolo che richiamava un'altra realtà che appunto, come vi dicevo, è Cristo Gesù. Per cui in tutto il Nuovo Testamento ogni singolo arredo del santuario viene collegato a Gesù. Gesù è la porta, nessuno può accedere a Dio se non per mezzo di Gesù, Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Gesù è l'acqua che ci purifica dei nostri peccati, Gesù è il pane della vita, Gesù è la luce del mondo, Gesù vive sempre per intercedere per noi. Il profumo dell'altare che era nel luogo santo rappresenta proprio le preghiere dei santi, secondo Apocalisse 5, 8. La cortina anch'essa simboleggia Gesù che ci apre, quindi, a Dio. è il propiziatorio, che è il coperchio dell'arca dell'Alleanza, secondo Romani 3, 25, è Cristo Gesù. Quindi, tutti gli arredi del santuario, tutte le parti del santuario nel Nuovo Testamento sono collegati a Gesù. In qualche modo diventano una mappa del piano della salvezza, perché fondamentalmente il cortile annunciava l'opera di Gesù sulla terra. Gesù che avrebbe, si sarebbe incarnato e che avrebbe donato la sua vita per amore dell'umanità e attraverso la sua morte in quanto innocente lui si è fatto carico dei peccati e delle colpe di tutti i peccatori. In questo senso lui può offrire il perdono a tutta l'umanità. Ma l'opera di Gesù non si è conclusa duemila anni fa, quindi attraverso la sua morte e la sua resurrezione. La Bibbia ci dice che Gesù poi è asceso al cielo. Gesù prima di salire ha detto discepoli per voi è bene che io me ne vada, quindi è una sorta di vantaggio, perché se Gesù fosse stato limitato dalla sua umanità non avrebbe potuto invece svolgere l'opera di intercessione che oggi svolge nel cielo a favore di tutti coloro che lo invocano. E la mediazione di Gesù, l'intercessione di Gesù, attenzione a comprendere bene il senso di questo termine, perché secondo quello che è il ritaggio culturale che noi abbiamo intercedere da quasi l'idea che Gesù deve convincere Dio Padre a essere buono, a essere in nostro favore, a concederci perdono. In realtà l'intercessione di Gesù non è nei confronti di Dio Padre, è nei nostri confronti. Apocalisse capitolo 3 è scritto che Gesù gira tra le vie, tra le strade delle nostre città come una specie di mendicante che va a bussare alle porte dei cuori in attesa di qualcuno che le apra il cuore e che lo inviti ad entrare nella sua vita. E Gesù non vede l'ora di ricevere questo nostro consenso perché vuole entrare da noi, come dice il testo di Apocalisse, cenare con noi, cioè avere intimità, avere una relazione profonda con noi. Questo è il senso profondo della mediazione secondo la Bibbia. E Gesù nel cielo lui vive per intercedere per noi, scrive l'epistola agli ebrei. Ma il luogo santissimo aggiunge una terza tappa del piano della salvezza perché a un certo punto la Bibbia ci dice che poco prima del ritorno di Gesù nel cielo inizia il giudizio al termine del quale in Daniele capitolo 7 viene detto che l'altissimo colui che è il vegliardo l'antico dei giorni darà al figlio dell'uomo titolo messianico che appunto si riferisce Gesù l'autorità di dare inizio al suo regno eterno e Gesù apparirà sulle nuvole del cielo per cui ciò che era prefigurato dal simbolo del luogo santissimo che era un luogo quindi che richiamava la perfezione diventerà realtà. Gesù darà inizio al suo regno eterno che è semplicemente il ritorno alla creazione originaria a quel mondo Tob molto Tob che noi abbiamo perso per cui ci sono dei nomi tecnici che la Bibbia utilizza per parlare dell'opera che Gesù compie in nostro favore. Il cortile rappresenta l'espiazione espiare nella Bibbia letteralmente significa coprire quindi cancellare togliere via il peccato nell'idea proprio etimologicamente coprire nel senso di scavare la fossa al peccato fare la tomba fare il funerale al male per poi dopo coprirlo completamente il male non c'è più il male è distrutto per sempre questo è il senso dell'espiazione che Gesù ha compiuto quando ha preso il nostro posto lui da innocente proprio come gli agnelli del santuario si è fatto carico lui di quello che era il dramma dell'umanità del peccato ma poi l'opera è proseguita nel cielo ascendendo in cielo Gesù è il nostro mediatore la religione biblica è la religione della mediazione il destino dell'umanità è ritornare alla relazione con Dio e questo non è un'opzione non è un'alternativa è l'unico destino l'unica possibilità di futuro e di eternità per l'umanità secondo la Bibbia esiste un solo modo per poter accedere a questa relazione eterna con Dio Cristo Gesù per cui lui è il nostro mediatore dice la Bibbia ma c'è un'altra tappa del piano della salvezza che è quello che stiamo ancora attendendo perché in questo momento viviamo ancora in un mondo dove c'è il male dove c'è la sofferenza in qualche modo ad alcuni viene il dubbio ma che è servito morire sulla croce se poi le cose non sono cambiate che senso ha che Gesù sia il nostro mediatore se siamo ancora in un mondo pieno di sofferenza di male di morte la risposta è proprio nel santuario noi stiamo attendendo il momento in cui Gesù purificherà questo pianeta c'è il capitolo 15 di prima Corinzi che parla proprio di questa questo momento nel quale ci sarà una trasformazione non solo del mondo ma anche di noi esseri umani che da esseri corruttibili rivestiremo l'incorruttibilità da esseri mortali rivestiremo l'immortalità e allora queste tre tappe del piano della salvezza realizzate da Gesù corrispondono anche a tre tappe del nostro cammino di salvezza come cristiani perché innanzitutto quando conosciamo Gesù conosciamo l'Evangelo e lo accogliamo con sincerità viviamo l'esperienza della giustificazione per grazia cioè Dio ti dichiara giusto anche se tu non lo sei Dio ti perdona ti tratta ti considera come se tu non avessi mai peccato questo è il significato della giustificazione per grazia ma poi c'è lo step successivo la santificazione Dio non solo ti dichiara giusto Dio ti rende giusto cioè ti accompagna col suo Spirito Santo in un cammino di trasformazione del tuo carattere della tua vita affinché passo dopo passo poco alla volta tu possa essere liberato dalla schiavitù del peccato e vedere ripristinata in te l'immagine di Dio e l'essere appunto figlio di Dio fino ad arrivare appunto alla glorificazione come vi accendavo prima quando tutto sarà trasformato e anche noi stessi saremo trasformati per cui il male non sarà mai più né fuori né dentro di noi questo è il cammino della salvezza era tutto illustrato nel santuario secoli prima ovviamente in una forma embrionale potremmo dire quindi non pienamente comprensibile fino a quando ciò che era soltanto prefigurato poi è venuto quindi ciò che era una profezia poi è diventata storia è diventata realtà e allora l'avvento di Gesù ha gettato luce sulla novità che fin dall'antichità era contenuta nella parola di Dio nella sua Torah soltanto che non poteva essere chiaramente compresa fin quando poi il Signore non si sarebbe incarnato per cui il cortile fa riferimento alla croce il luogo santo fa riferimento all'esperienza della chiesa l'esperienza del cammino cristiano mentre il luogo santissimo farà riferimento alla fine dei tempi e al secondo avvento di Gesù e alla creazione quindi di nuovi cieli e nuova terra il santuario è una mappa del piano della salvezza proprio come è scritto in ebrei 9 9 e allora vediamo quale messaggio possiamo cogliere per noi dal santuario ebrei 9 9 fino a 11 dice il santuario è una parabola per il tempo presente fino al tempo della riforma di Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non fatto da mano d'uomo cioè non di questa creazione quindi in ebrei è scritto in modo chiaro il santuario è una parabola in greco c'è parabole cioè una illustrazione una figura per il tempo presente quando scrive l'autore dell'epistola agli ebrei siamo a metà del primo secolo dopo Cristo siamo in pieno epoca cristiana nell'epoca della chiesa è così che gli apostoli consideravano il santuario non qualcosa di vecchio relegato all'antico popolo di Israele ma qualcosa che è vero e proprio patrimonio del cristianesimo della cristianità perché è solo con Cristo Gesù che puoi comprendere il senso profondo del santuario e al contrario il santuario ti fornisce la chiave per capire Gesù per capire chi è per capire perché è venuto e perché Gesù è morto e poi risorto il tempo della riforma di Cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri ecco il santuario annuncia il futuro e soprattutto ci annuncia i beni futuri che ci aspettano perché grazie a Cristo Gesù Gesù ci ha dischiuso degli orizzonti quelli che il peccato ci aveva precluso e qui si parla del tabernacolo più grande più perfetto non fatto da mano d'uomo cioè non di questa creazione facendo riferimento al santuario celeste che di fatto il santuario celeste è il luogo dove Gesù ora sta svolgendo l'ultima tappa del piano della salvezza c'è il giudizio in corso al termine del quale Gesù ritornerà secondo le profezie di Daniele e di Apocalisse e allora qui c'è una grande teologia da cogliere questa teologia si può cogliere attraverso tre testi che parlano del santuario che attraversano tutta la Bibbia il primo si trova nella Torah ed è il primo testo che fa riferimento al santuario nella Bibbia Dio dice costruitemi un santuario affinché qual è lo scopo del santuario io abiti in mezzo a loro la volontà di Dio e di tornare ad abitare con noi proprio come succedeva con Adama e Deva nel giardino dell'Eden quando loro avevano quel rapporto diretto con Dio quella relazione naturale dove Dio quotidianamente andava a trovare Adama e Deva passeggiava su far della sera come dice il testo biblico per fare una chiacchierata con Adama e Deva per condividere con loro come era andata la giornata ecco Dio vuole abitare con noi per cui capite per gli ebrei l'idea che Dio ordina di costruire una tenda accanto alle loro tende quindi Dio che si accampa accanto al suo popolo è qualcosa di meraviglioso Dio vuole essere il nostro vicino di casa il nostro coinquilino ma è una cosa stupenda Dio vuole abitare con noi e con Cristo Gesù Giovanni 1,14 ci svela che la parola si è fatta carne ed ha abitato fra noi di fatto Dio ci è venuto a trovare ci è venuto a trovare qui a casa nostra in questo mondo che purtroppo abbiamo deturpato rovinato con il peccato ma Gesù si è incarnato ed è sceso qua giù sporcandosi anche lui facendo i conti con la realtà della sofferenza con la realtà della malvagità e purtroppo con la realtà della morte in questo modo lui si è messo nei nostri panni ha simpatizzato ha solidarizzato con noi ha abitato fra noi è l'ultimo libro della Bibbia l'Apocalisse il penultimo capitolo capitolo 21 versetti 3 e 4 dice ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio e Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi ecco ancora una volta si fa riferimento al tabernacolo si fa riferimento alla nuova creazione al regno di Dio come il tabernacolo che scende dal cielo perché? perché lo scopo del santuario viene realizzato noi torneremo a vivere con Dio torneremo ad abitare con Dio vi rendete conto che fondamentalmente il santuario esprime una nostalgia tu manchi a Dio noi manchiamo a Dio come anche il santuario esprime la nostra di nostalgia perché a noi ci manca Dio e ci manca quell'Eden ci manca quel mondo un mondo che non abbiamo mai conosciuto di fatto lo leggiamo soltanto in Genesi 1 e 2 e che però è iscritto in profondità nella nostra anima per chi Dio ha messo in noi il seme il pensiero d'eternità e questa vita che viviamo oggi ci sta stretta non ci troviamo bene in questo mondo perché questa non è la vera vita per la quale eravamo stati creati perché Dio crea la vita non la morte e non eravamo stati creati per soffrire per vedere le ingiustizie per la malattia per perdere i nostri cari per cui questa nostalgia che attraverso tutta la Bibbia attraverso l'immagine del santuario è il messaggio principale di tutta la Bibbia e dello scopo dell'Evangelo e lo scopo del piano della salvezza riportarci a casa ecco perché il santuario è una grande mappa del piano della salvezza perché contiene tutte le tappe tutte le fasi che Dio nel corso della storia dei secoli ha attuato con l'unico scopo quello di riportarci a casa Dio ti rivuole Dio ha nostalgia di te il peccato oggi ci impedisce di vivere con Dio questo ci insegna il santuario il fatto che all'inizio era precluso l'accesso ai peccatori nel luogo santissimo nessuno poteva accedere solo il sommo sacerdote aveva il valore pedagogico di dirci che oggi il peccato ha creato un baratro tra noi e Dio una separazione come dice il profeta Isaia ma Dio è quel ponte che va a colmare questo gap e che permette nuovamente di poterci collegare con Dio l'unica possibilità è quella che l'epistola ebrei chiama la via del santuario Cristo Gesù e allora il messaggio del santuario fondamentalmente si resume in questa domanda tu vuoi tornare a Dio tu desideri tornare alla vera vita per la quale eri stato creato a quel mondo Tob vuoi accettare il dono della grazia e in ebrei capitolo 10 troviamo la risposta del versetto 19 avendo libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù che è la via recente e vivente che Gli ha inaugurato per noi accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede Gesù è la via recente e vivente che permette di accedere a Dio prima il santuario era chiuso era precluso ai peccatori Gesù ha spalancato le porte del santuario è la via che ora è stata aperta grazie al suo sacrificio per poter ritornare a casa per cui qui c'è il primo passo della fede quello di prendere consapevolezza della nostra condizione del nostro bisogno di salvezza e di scoprire che esiste una via d'uscita ai nostri problemi alle nostre sofferenze e questa soluzione si chiama Cristo Gesù e allora la tappa successiva dopo la porta dopo l'altare dei sacrifici che ci presenta Gesù è la conca con l'acqua che ci ricorda l'immagine del battesimo avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e corpo lavato con acqua pura il battesimo rappresenta una morte e una resurrezione rappresenta l'ingresso a questo progetto in cui Dio vuole ristabilire la sua immagine in noi la nostra figliolanza come figli suoi e ristabilire questa creazione e dopo il battesimo c'è tutto un percorso di santificazione che dura l'intera vita conserviamo la confessione della nostra speranza senza vacillare perché fedele è quello che ha fatto le promesse per cui una vita vissuta conservando ritenendo cioè proteggendo questo bagaglio questa eredità di speranza di senso di salvezza che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù nella certezza delle promesse la speranza e certezza di cose che non che non si vedono quindi sicurezza che queste cose che Gesù ci ha promesso diventeranno presto realtà ma questo cammino non lo si vive da soli la via del santuario è una via affollata la si vive con dei compagni di viaggio che sono i fratelli e le sorelle nella fede facciamo attenzione gli uni per gli altri per stimolarci all'amore alle buone opere non abbandonando la comune adunanza come alcuni sono soliti fare ma esortandoci a vicenda la fede nella Bibbia non esiste se non nella comunione se tu accetti Dio allora accetti il suo progetto di vita ma un progetto di vita che ti porta automaticamente a diventare parte della famiglia di Dio del suo popolo nell'antico Israele nel antico testamento Israele nel nuovo testamento la chiesa per cui c'è l'esortazione a non abbandonare la riunione a non abbandonare il momento del culto comunitario ma invece a vivere un'esperienza di fede piena completa non mozzata non motilata ma effettiva insieme a dei fratelli e delle sorelle nella fede e dice il versetto 25 del capitolo 10 di Ebrei questo dobbiamo farlo tanto più che vediamo avvicinarsi il giorno oggi riteniamo di essere ormai alla fine dei tempi gli sgoccioli della storia umana tutti i segni indicatori ci dicono che le profezie si sono adempiute e che non manca molto il ritorno di Gesù da un momento all'altro potremo vedere Gesù apparire sulle nuvole del cielo allora maggior ragione dice l'autore dell'epistola agli ebrei dobbiamo accogliere pienamente questo dono della salvezza nelle modalità come è stata espressa qui quindi col pentimento con la conversione con il battesimo con un cammino di santificazione con una vita vissuta di fede all'interno della comunità in attesa del ritorno di Cristo Gesù termina la Bibbia con questo testo che già vi ho letto prima e il quale vorrei concludere questa tappa di oggi del viaggio della Bibbia poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio Gesù ha spalancato la via della salvezza tu vuoi percorrerla io ti voglio augurare di cuore di sì e ti auguro allora buon viaggio con Dio grazie a tutti